Due mesi sono nulla per valutare il lavoro di un presidente della regione che va calibrato su un quinquennio. 60 giorni sono pochi anche alla luce del fatto che il mandato di Luciano D'Alfonso, complice a un ritardo nella proclamazione degli eletti, ha avuto una partenza ritardata. Qualche considerazione però può essere fatta alla luce soprattutto di quanto il presidente della regione aveva annunciato in campagna elettorale. Quest'ultima è stata caratterizzata e sarebbe giusto dire incentrata su un paio di punti focali sui quali l'allora candidato D'Alfonso ha battuto come un martello. La sanità e le attività produttive. La sanità a portata di cittadino che va a trovare l'abruzzese nelle case più semplice e diretta. Così era stato annunciato fino al 25 maggio. Ebbene di quanto detto non si è visto al momento nulla. Anzi Teramo non ha un direttore generale della ASL da oltre un mese e non è stato ancora sostituito. Le dimissioni di Paolo Rolleri restano al momento un mistero. Chiaro che la motivazione addotta quella di non uscirci con le spese è poco credibile. Come potrebbe infatti un manager chiamato a gestire milioni di euro a palate accettare un incarico senza aver fatto due conti della serva prima sulle centinaia di euro da spendere per i viaggi, il vitto e l'alloggio? E se ne accorge dopo più di un anno? Non ci siamo ma non ci siamo neppure con i tempi della sostituzione. Dove è la sanità più veloce e vicino al cittadino? Sul fronte della politica industriale le cose non vanno meglio. Incentivi alle industrie non sono arrivati, i fondi europei restano ancora fermi e la situazione resta stagnante. Il governatore mercoledì traccerà il suo primo mini bilancio di un'attività fatta fino ad oggi di viaggi, grandi spostamenti, sopralluoghi e decisioni annunciate. Il tempo degli spot però è finito, adesso siamo passati a quello dei fatti e allora facciamolo qualche passo in avanti. Due mesi sono pochi ma basterebbero per far vedere qualcosa che se c'è stato in pochi l'hanno percepito.